La cucina è cultura. La passione ci è stata regalata dalle nostre nonne e le nostre mamme. L'abbiamo assorbita e la stiamo trasformando in contaminazioni. In Italia, con tanti prodotti e ricette tradizionali, potremmo anche non essere creativi, ma non ci accontentiamo. Dentro il nostro DNA c'è la curiosità, la curiosità porta a creare nuovi sapori. Mai come ora, la cucina italiana è sicuramente percepita all'estero, al pari della cucina francese e della cucina nord-europea. L'innovazione è un elemento fondamentale. Io sono sicuramente un apripista per l'innovazione con il TUNE, il laboratorio di ricerca e sviluppo che ho fatto tre anni fa. Stiamo portando avanti una grande innovazione e lo faccio per me ma anche per gli altri. Quindi ogni scoperta che abbiamo fatto, che faremo, sarà subito divulgata a tutti i nostri colleghi. La cucina è come la moda, è come lo sport. Ogni cuoco ha un suo stile. Lo leggi dal suo piatto, lo leggi da come si pone, dai colori che mette nel piatto, dalla leggerezza di quando poi lo assaggi. Tutte le regioni italiane con le loro culture, con le loro tradizioni, con i loro prodotti, fanno sì che ci diano una ricchezza immensa, un patrimonio, un heritage che sia illimitato. Queste eredità culturali arricchiscono il nostro patrimonio, ce le stiamo portando avanti, perché comunque sono eredità che abbiamo dai nostri bisnonni, dai nostri nonni, dalle nostre mamme. L'Italia è così ricercata da un turismo enogastronomico mondiale perché ha una diversità che la contraddistingue. Ogni regione italiana ha delle ricette tradizionali legate a prodotti diversi, legati ad usi diversi e costumi diversi.